e luce aaaah ahahahahah 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 ahahah ahahahahah ahahahah piovono 2 euro dal cielo ahahahahah oh madonna oh mio dio ahahahahah 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 Oh Dio Ma tu l'avete? Mi è successo una volta e adesso mi sono girata la volta Oh 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 O Oh Oh Grazie Baby, I love you, I want to be a knight C'è un tipo, amore C'è un tipo, amore No, no, no. Sì 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 Ah I got you un po di loro ah oh 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 ah 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 hanno forse tipo di problemi, non so, cioè, ma adesso no? lui è molto 2 euro raga, tan due che sono ah 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 grazie 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 come si vuoi? ahahah ahahah that was hilarious come sa va? ahahah 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 my ears bro ahahah No come stai? oh via di that was hilarious, that was crazy come stai? oh my god i got you che asusto che asusto che asusto che asusto No, 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 no. No Non lo so Non lo so Io ho mangiato il mio strumento Ah Grazie.